VOLETE CAPIRE CHE HO ANCORA I MIEI DOCUMENTI, CAMBIO PENSIONE E' PIÒ DI UN MESE CHE VADO AVANTI, COSÌ MI PRENDERÂNNO! Non voglio tornare in galera, datemi un indirizzo, qualcuno che mi aiuti. Così tu sei Massimo? Si, sono Massimo Carlotto. I cognomi non sono necessari, le regole sono poche ma essenziali. Non dovrai mai dare nell'occhio, invece devi avere mille occhi e orecchi. Carlotto andava assolto, assolto con formula piena! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!